Presidente Sangra, le imperie per questa Assemblea è un'Assemblea che guarda al futuro facendo attenzione anche a quello che accade oggi nel mondo dell'economia e del commercio. Il giudizio qual è? Guardi, gliela dico così in maniera molto semplice, certamente siamo ancora in una situazione delicata, in una situazione difficile perché non c'è dubbio che finalmente i segni in meno sono stati archiviati, però i segni più sono ancora troppo timidi, sono troppo fragili, cioè siamo di fronte ad una ripresa che deve essere fortificata, deve essere accentuata. Insomma se vogliamo trasformare questa ripresa che indubbiamente c'è ma è ancora fragile, senza slancio, timida e la vogliamo trasformare in una crescita effettiva, duratura e diffusa, bisogna mettere in campo tutte quelle risorse che rilanciano la domanda interna, non dimentichiamo mai che la domanda interna per investimenti e consumi vale qualche cosa come l'80% del PIL. E allora certamente nella legge di bilancio ci sono delle misure importanti che vanno in questa direzione, ne cito alcune, l'introduzione dell'IRI, l'estensione del bonus fiscale anche agli alberghi, alcune importanti risorse per qualificare le aree degradate nelle città, il fatto che sia stata dismessa l'agenzia delle entrate, un rapporto migliore tra contribuente e fisco, ma soprattutto quello che noi sottolineiamo con forza, il fatto che non siano scattate le clausole di salvaguardia. Quando Renzi è venuto alla nostra assemblea ha detto che non sarebbe stata aumentata l'IVA e questo impegno è stato mantenuto. E a proposito dell'IVA aggiungo una cosa, abbiamo vinto una battaglia ma adesso bisogna vincere la guerra perché le clausole di salvaguardia sono state spostate nel 2018 per quasi 20 miliardi e nel 2019 per 23 miliardi e il nostro impegno sin d'ora è quello di fare in modo che anche per il 2018 e il 2019 questo non accada. Un'attenzione su tutto il territorio, lo dimostra la sua presenza qui all'assemblea imperiese a fianco del Presidente Lupi. Sì, guardi, sono venuto proprio volentieri per due cose, innanzitutto per una testimonianza di affetto e di solidarietà nei confronti del Presidente Lupi che da anni si sta spendendo in maniera generosa e con grande impegno per il mondo che noi rappresentiamo. E poi per dare un segnale di particolare attenzione al nostro mondo che, ripeto, sta ancora vivendo momenti di difficoltà. E' per dire che la Cofcommercio c'è, c'è con il suo impegno, con tutta la sua attenzione e anche con il suo rinnovato senso di responsabilità. Abbiamo cercato di dimostrare, penso di esserci riusciti, che i corpi intermedi, quelli che funzionano e che sono vivi, non sono una zavorra dello Stato ma sono invece un passaggio importante. Una società senza i corpi intermedi, senza questa loro capacità di mediazione, di dialettica, certamente non può stare in piedi. Soltanto la considerazione ultima che ci riguarda da vicino, questo premio per i 30 anni dato a Imperia TV, che dire, un grazie a Cofcommercio per essersi così ricordata di noi e dell'attività anche dei nostri editori. Certamente, ma io dico un grazie anche a Imperia TV che ha sempre dimostrato in questi anni di essere vicino al territorio e di sapere, attraverso la sua collaborazione, rilanciare il territorio. Le nostre imprese vivono sul territorio, non delocalizzano e quindi è importante fare in modo che questo territorio sia sempre più presente e vivo, non soltanto nell'attenzione della Cofcommercio ma anche nell'attenzione dell'istituzione.